Dopo la squalifica di Filippo Nardi dalla casa del GF VIP 5 per le frasi sessiste, Samantha e Sonia esprimono i loro dubbi sul comportamento della ruta. La De Grenet è molto critica alle reazioni dei conquilini che non hanno preso apertamente posizione e attacca soprattutto Maria Teresa. Aspetti la puntata per dirlo? Anche la Lorenzini ci va giù pesante. Maria Teresa si giustifica e spiega di aver affrontato Filippo nei giorni scorsi. Ti chiedo scusa allora, dice Samantha. Le ragioni di Maria Teresa non sembrano però convincerla e più tardi con Sonia ripetisce i suoi dubbi. Anche da Iammello è della stessa opinione. Non mi convince, ho visto un atteggiamento completamente diverso da quello solito. Le prime volte l'ho nominata per lo stesso motivo vostro. All'inizio pensavo fosse una giocatrice, adesso non so. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.